Questa mattina ritroviamo con molto piacere Giuseppe Di Pasquale. Stiamo per parlare fra l'altro di un tema a lui molto caro, di un autore a lui molto caro. Giuseppe, ben trovato. Grazie, grazie Antonella, grazie a tutti e buongiorno. Giuseppe, tu hai ormai una frequentazione con i testi di Camilleri, lo possiamo dire, oltre che un profondo amore? Beh sì, Andrea Camilleri ha segnato la mia carriera e anche la mia vita se vogliamo, perché avendolo conosciuto molto giovane, a 22 anni in accademia, e poi è nato, oltre che un'amicizia, una generosa da parte sua consegna relativamente al teatro delle sue opere, delle sue opere principali, perché abbiamo messo in scena almeno dieci lavori scritti insieme e naturalmente Andrea è stato un padre, un amico, un complice, e una persona meravigliosa che ha davvero riempito il mio cuore e di cui sento la profonda mancanza. Ebbè, sono quei personaggi che hanno, fra l'altro tu l'hai descritto come appunto amico ma anche complice, mi ha colpito questa tua scelta perché io me la immagino la complicità con Andrea Camilleri, fatta di sguardi, di silenzi, di intesa, ecco, perché a volte il non detto se lo possono permettere solo quelli che hanno, come dire, la cosiddetta affinità elettiva, parliamoci chiaro. Quanto meno un'affinità elettiva sicula, perché ricordo, e tra l'altro a settembre ne approfitto per dire che a settembre uscirà per la Sellerio Editore, proprio una mia conversazione sul teatro con Andrea Camilleri, ovvero le conversazioni che abbiamo fatto durante tutti questi anni e che abbiamo registrato perché ogni tanto mi veniva la mania e chiedevo ad Andrea, dico guarda Andrea, facciamo una cosa, registriamo oggi quello che diciamo. E meno male che l'hai fatto Giuseppe, meno male. Davvero, davvero. Ed è diventato un libro, è diventato un libro, una conversazione dove parliamo soprattutto di teatro, ma parliamo anche del resto. E dove appunto raccontiamo il nostro primo incontro in Accademia, dove ci fu proprio un aneddoto curioso, dove lui che io non conoscevo, per un'ora e mezzo di esame alla selezione per registi, lui stette in silenzio e in fondo sala, non quasi non si faceva vedere. Quando dopo avermi torchiato per un'ora e mezzo la commissione mi licenziò, lui mi fermò quasi sulla porta e mi disse voglio fare una domanda, e fece una domanda carogna proprio, una domanda di quelle dalle mille pistole. E io, come dire, andò bene e proprio in questa conversazione glielo ho ricordato. E lui mi spiega il motivo per cui mi fece quella domanda carogna. Insomma, con Andrea è stato... E' stato interessante che scopriremo appunto nel libro, ma permettimi di prenotarti già in vista dell'uscita del libro, per poterne poi parlare ad hoc. Oggi invece parliamo di questa tua drammaturgia, perché hai appunto messo le mani sulla pensione Eva, che è un testo molto peculiare. Spesso Camilleri lo ha definito una piccola vacanza, no? letteraria si intende. E tante volte ha voluto precisare in maniera molto spiritosa, no, non c'è alcun fatto biografico di mezzo, però la pensione Eva è esistita davvero. E' vero, perché una vacanza, perché è il gioco nostalgico di non solo, diciamo così, di un luogo, che erano le case chiuse, dove sì, si andava per i maschietti a divertirsi, a sollazzarsi, ma in realtà erano anche luoghi di ritrovo, cioè luoghi dove si andava a fare circolo, a discutere, a parlare, a fare incontri seducenti, non necessariamente sessuali. E lui racconta questo anche come una nostalgia di un'epoca, tant'è che lo ambienta proprio nel 1942 sotto i bombardamenti, presso a poco quasi sul finire della guerra, dove lo sfondo di questa Sicilia devastata dai bombardamenti alleati e tedeschi fa da culla alla vita che avviene dentro la pensione Eva, che è vita, è vita fatta di umanità, fatta di personaggi che hanno una vita intensa, non proprio il lavoro delle signorine, ma proprio la loro vita quotidiana, le loro aspirazioni, i loro amori, le loro paure. Ed è bello il romanzo proprio perché, come sa fare Andrea, racconta questa apparente contraddizione tra la vita che scorre e la morte dietro alla finestra. Questo è proprio, come dire, sembra quasi il biglietto, il biglietto da visita per rappresentare questo lavoro, il libro che tu hai reso in senso drammaturgico e che va in scena al Teatro Brancati fino al 23 aprile, hai scelto poi un cast, niente male direi, anche perché c'è di mezzo Tucci un Sumeci, peraltro ci sono anche le musiche del figlio Matteo, mi fa piacere questa cosa, bravissimo compositore. Proprio l'idea è nata parlandone con Tucci, perché volevamo fare una cosa insieme e allora ci siamo tutti e due trovati su quest'idea. Diciamo che tutto questo fa parte anche della memoria di Tucci, con la sua grande simpatia, con la sua capacità comica eccelsa e ricorda appunto i momenti in cui è capitato anche a lui da giovanottino di frequentare queste case, va così anche per divertimento, anche per curiosità e naturalmente il personaggio che nel romanzo è descritto in maniera puntuale, ma diciamo così più ridotta, lo abbiamo ampliato, lo ha ampliato perché è proprio il Cavaliere Lardera, un 88enne, che va lì, come dice lui, solo per rifarsi gli occhi, solo per avere il gusto di vedere queste bellezze che si avvicendano e divertirsi e far divertire insieme a loro. Contrastare l'immagine della morte con l'immagine di una vita rigogliosa, proprio un contrastare. Sembra quasi la vita dentro la vita, no? Esatto, con la gioia di vivere. Questo è il grande grido che Tuccio mi aiuta ad esprimere e naturalmente a ribadire sul pensiero di Andrea. È la vita che esprime gioia, malgrado tutto, malgrado le sofferenze, malgrado i disastri della storia, ma esprime gioia, esprime la voglia di vivere e la voglia di godere delle cose belle. Come sempre accade nella vita, anche quando c'è la guerra. Mi è venuta subito in mente l'immagine di un bambino nato sotto i bombardamenti a Buccia, una delle città più colpite dell'Ucraina. Proprio mentre stavi dicendo questo pensavo proprio che la vita va avanti anche quando c'è la guerra, perché la vita è più forte della guerra. Esattamente. Giuseppe, io ti ringrazio sempre per la tua grande disponibilità e ci vediamo a teatro. Fino al 23, Teatro Brancati, lo voglio ricordare, un appuntamento da non perdere, Pensione Eva. Ci vediamo a teatro e grazie sempre.